No all'aumento del prezzo dei biglietti degli autobus. È la posizione della provincia di Firenze che ha studiato alcune ipotesi per evitare l'aumento da 1,20 euro a 1,50 euro del costo del biglietto urbano, così come proposto di recente dalla conferenza permanente regionale allo scopo di mantenere in equilibrio economico il sistema del trasporto pubblico locale in vista della gara unica, che per l'area fiorentina significa dover ricavare dai titoli di viaggio 38 milioni di euro, mentre al momento se ne ricavano 31. La proposta della provincia, illustrata dall'assessore ai trasporti Stefano Giorgetti nel corso di una conferenza stampa, prevede alcune mosse per recuperare i 7 milioni mancanti. Una è il recupero dell'evasione, ma non solo il recupero dell'evasione facendo le contravvenzioni, le multe, ma anche portando le persone ad educare a comprare i biglietti. Dal contrasto all'evasione, la provincia ha calcolato di ricavare circa 3 milioni di euro. L'altra mossa consiste nel far aumentare il numero dei passeggeri del 9,11% attraverso una serie di investimenti, alcuni dei quali già previsti in un accordo tra Comune di Firenze e Regione Toscana. Per le busvie, per i parcheggi scambiatori, per una politica anche della sosta che disincentivi a venire con il mezzo proprio in città e poi anche col sistema nodi che comunque porta delle risorse sull'area urbana, perché come sapete i bus urbani si fermeranno nei dodi intorno alla città e quindi questo comporterà un maggior utilizzo della rete urbana. Da qui la provincia conta di ricavare altri 3 milioni di euro. L'ultimo milione si pensa di recuperarlo dalle risorse della tramvia, destinando una parte della quota di rimborso passeggeri che attualmente va al Comune di Firenze anche alla provincia. Questi punti saranno discusse lunedì prossimo con i comuni dell'area metropolitana fiorentina per poi essere confrontati con la Regione.